Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora, sono sempre io MrL e siamo qui in casa da solo A giocare a questo gioco chiamato Rains Che, non so perché adesso io ragazzi non potete sapere che casino sta venendo fuori So con le cuffie E di solito non mi registra il volume Però adesso mi ha registrato il volume e io non ci sto capendo niente Va bene, non ha importanza In ogni caso vi ho portato questo gioco sul telefono chiamato Rains E' a pagamento, io però l'ho scaricato da Aptoid Che sapete perché? Perché noi non abbiamo soldi della partnership, siamo poveri Io non so comprare i giochi, non so come fare, si ho capito Quindi allora, ed è un gioco di carte dove porco Vabbè lui ci chiedeva, perché avevo già visto tanto all'inizio, non mi spoileravamo niente Questo qua ci chiedeva, sei tu il nostro successore? Cioè sei tu un nuovo re? E noi gli abbiamo detto di sì, com'è giusto che sia E' un gioco di carte ragazzi, ma è veramente molto particolare e molto difficile Ok andiamo avanti Quindi tu sei colui che ha usurpato il mio trono E mi ha rinchiuso in questo dungeon per l'eternità? No o sì? Io direi di no perché siamo buoni e mi ha fatto niente Beh Tutto ciò non ha importanza in ogni caso Buona fortuna con ciò che ti aspetta Ah sei tu il re in carica in ogni caso Buona fortuna con ciò che ti aspetta Perché vedi, sono tutti un po' pazzi E noi siamo il re Chi? Cosa? Cosa? Solo prova a tenere... Noi non ci siamo capendo niente Poi vedremo più avanti Solo cerca di tenere bilanciato Cerca di tenere bilanciato i poteri Che tu vuoi... Cerca di tenere bilanciato i poteri Che vuoi poter venire qui sopra Che sono La religione Il popolo Esercito In denaro E di tenere la testa sulle spalle Cioè di non morire Ok abbiamo capito tutto quanto Lo spirito ti guarda Con sguardo pensieroso diciamo E poi scompare Sei penetrato nella corte Cazzo È un cane È un gioco serio sto qua Ma non ha importanza Rex Vuff Viff Viff Fa i versi da cane Cosa diciamo? D'accordo seduto Seduto Che non è successo niente Era una prova mi sa Ok quindi I cittadini in un remoto villaggio Stanno insegnando ai loro bambini Molto strano Niente ragazzi scusate Mi stavo tenendo l'occhio dove Il volume ragazzi Scusatemi un attimo I villaggi I cittadini di un remoto villaggio Stanno insegnando ai loro bambini A sputare Sugli uomini del re Dovremmo Dovremmo mandare un esempio Subito Subito Infatti avete visto È salito alla religione Dio se lo sa perché Se tu fossi un animale Chiuso saresti Un leone Io direi di sì Ed è salita su L'esercito Lo sapevo io Ok qua ci dice Gira lentamente Per vedere Ok sì ho capito Ho capito Questo qui è Poi ognuno di questi personaggi Qui avrà un nome Ne arriveranno anche di altri È Gest del sangue Debolda Non so che significa Gest debolda Non so che significa È un nome Una barca Una barca Appena stata messa in quarantena Perché potrebbe contenere Una piaga al suo interno Una malattia Dovremmo mettere in quarantena Il porto intero Così facendo Dovremmo guadagnare Qualcosa Ah no Ok ci dice Ci sono tante conseguenze Poi sta a noi Io ho messo in quarantena Tutti i porti In ogni caso Sir Henry Mio lord Questo tipo qui Guybrush Lost Tong Per senza lingua Penso Ha messo Ha perso Ha perso Ha perso Ha perso Un leone Nelle strade Della nostra capitale C'è un pa' demonio Manda l'esercito Chiudi No no Non possiamo Chiudere C'è noi C'è un leone In città Così ho capito No O chiudiamo Ci richiudiamo Dentro il cancello Oppure mandiamo l'esercito Io dico Mandiamo l'esercito Ragazzi Perché sennò Succedono casini Oh bene Abbiamo dominato Governato Ben cinque anni Come potete vedere Di sotto Il regno del sud Ci accusa Di aver rubato La loro Giovane Principessa Declinare Cioè dire Cioè Se noi diciamo Di sì No In ogni caso Se noi decliniamo Questa offerta qua Ci sarà una guerra No Sì dai Decliniamo Guerra Il popolo va giù Ma non sapevo Che altro Avrebbe potuto succedere Perché forse Ci sarebbe sceso tutto Un terremoto Matt Questo qui Rappresenta di sicuro Il popolo Un terremoto Ha distrutto Una grande parte Della capitale La guardia cittadina Aspetta i tuoi ordini Salvate le vittime Prevenite Non so che In ogni caso Io direi di salvare Le vittime Eh però Siamo senza soldi Quasi Lord Lord Cedric Il tuo conto In barca E banca È veramente Messo male Il mio lord I mercanti La nobiltà Ah I mercanti La nobiltà Possengono tutto Quindi noi diciamo Cosa potremmo fare Siamo morti Ma cinque anni Otto anni Persino tanto Per il primo La nuova oligarchia Ti ha forzato A esiliarti Ok È finito così ragazzi Ma no Aspetta No Per niente Cioè Il nostro primo regno È finito così Che va dal 603 611 E noi eravamo Baudoin Il giovane Andiamo avanti Guardate qua La sala dinastica Anche addirittura Ci abbiamo Gli obiettivi Guardate qua Ancora il re spirito Ancora Sei il tu Il giovane re E noi diciamo Not again Non ancora Stavo solo scherzando Io lo so Che tu hai già Io so Che tu hai già Visto tutto questo È la nostra Meridizione Lo sai Io non capisco Noi rimaneremo Tutto Noi ricorderemo Tutto di ogni re Della nostra dinastia Ogni Ogni nascita Ogni morte Per anni Come Ma Come Dichiamo come Perché Si dice che soltanto Il diavolo Ci permetterà Di Di Ci potrà togliere Questa maledizione Ma forse Questo non anche esiste No Il diavolo Non esiste Diciamo noi Questo qui È quello che Gli direi io Questa è una scelta Interessante Cioè Insomma Interessante risposta Anche a me Anche a me piacerebbe essere Libero Anche a me Piacerebbe essere Libero Anche a me Sì perché può essere Stressante Alla lunga Lo spirito Lo spirito Lentamente Scompare E ora Noi siamo William E cerchiamo Di restare Al potere Tipo per Dieci anni Stavolta Anzi ragazzi Sapete che faccio Siccome non mi fido Della registrazione Che potrebbe Andare a puttane Stopo qua la registrazione E ne ricomincio Un'altra più avanti Ciao a tutti Ok ragazzi Sono tornato E La registrazione È andata bene Quindi andiamo avanti Siamo nella nostra Come secondo spirito Oggi ragazzi Cioè oggi Adesso siamo rinati Come secondo spirito Come seconda erede E siamo William E siamo un anno al potere Quindi Il fiume Si è seccato Di nuovo Dovremmo costruire una diga Io direi di sì Ed è andato Sono andati giù i soldi Su il popolo Questa diga Limiterà L'accesso ai vichinghi All'acqua Sei sicuro Che vuoi precedere I vichinghi Sono dei grandissimi Figli di puttana Io odio Sì C'è salito su tutte Ragazzi Bene Mio signore Un buon dottore Un buon dottore Appena salvato la vita Dei miei nipoti È anche un po' Un mago Ed è proprio qui ora Lettimi Sì Lasciano entrare Perché ci è scesa Giù Ah perché la chiesa Odia la Scienza sporca Nuova carta La chiesa odia i maghi Eccolo qua Io sono un dottore Alchemista E anche I giochi Uso le pozioni Posso anche Perché posso manipolare La vita per te O Occasionalmente La morte Si chiama maestro Avenzoar Ok Felice di averti Ci è andato su Esep Però si è messi bene Uh Archbishop of Farisby Un convento di suore Ha iniziato Al mio augurale Come gatti Cioè cos'è Una possessione Facciamo fida che c'è una possessione General Generale Che significa generale Ah andiamo a chiamare l'esercito C'è un altro tanto Quando una di questi quattro Va a zero Significa che Non siamo più in grado Di mantenere il potere Quindi moriamo Veniamo usurpati E tutto quanto Non mi piacciono le cuffie così Un attimo ragazzi Che sapete come Io sono scomodo con le cuffie Anche se sono sul letto Ragazzi Sto scomodo comunque Un convento di suore Ha iniziato Ah si come qua Hai mandato l'esercito Per formare il Nune Mio Wing Perché sembra stata Una prova Io qui non ho capito Molto ragazzi È tipo una possessione Forse Ok Ghibro Sto qui senza Un giullare Mi piacerebbe Poter cantare Una canzone Per sua maestà È chiamata Il 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 Babbeo E sua maestà Sì Perché no Molto tempo fa Un povero idiota Stava cantando da solo Triste Stava cantando da solo Ed era triste E canzava una canzone Molto triste Continua Ma se Non facciamo i bastardi Lui aveva un Magnifico Animale domestico Come Che gli teneva compagnia Una bestia Una bestia Veramente sporca E E E Brutta Qua Possiamo dire Guardi Buttatelo via Continua dai Ma era anche Carino e pulito E E E E Non li ascolta a dire Ragazzi È veramente È una canzone Bruttissima Grazie È andata sul popolo Lo sapevo io Che gli piaceva Un nuovo Contadino Ha una nuova Tecnica Per il coltivaggio È stata Considerabilmente Migliorata E Cosa Oh mio dio Qua abbiamo bisogno Di soldi noi ragazzi Possiamo dire Se distribuirlo al popolo Oppure Prendercelo noi Io dico Prendiamoci soldi Perché ne abbiamo bisogno Lavaro Costruisce una Sfortuna personale Abbiamo appena fatto Una cifre Mette tipo Siamo 6 anni Nel potere È tutto Molto Bene Ribilanciato Ragazzi Benissimo Mio lord Ti piacerà Vecacciare Qualche Maiale Selvagio Certo che no Non vado a rischiare La vita I minatori Si stanno Rifiutando Di scavare Dentro La miniera Loro vogliono Ribellarsi Sì Io dico Sì Perché non Ho capito Bene Carbio Ancora Pochi soldi Le persone Pensano Che tu Sia Veramente Un buon Re Dovrei Dovremo Tassarli Di più Cosa Qui Insomma Mi sta Il popolo Troppi Sacre È veramente Un ottimo Re Perché non Lo tassiamo Di più In modo Da migliorare L'opinione No Sì Io dico Sì Ragazzi Che abbiamo Pochi soldi E il popolo È felice Sì Dai Ok Così abbiamo Tanti soldi No Ti fa ridere C'è questo Contadino Che ci dice Le miniere Sono piene Di oro Mio signore Siamo ricchi Oppure Sono ricco Io dico Siamo ricchi Cioè Dividiamocelo Ah un uccello Che ci porta i messaggi Se sentite il cane Ragazzi Ditemelo nei commenti Anche se non penso Che lo sentiate Fa il suo Verso Da uccello Siamo anche L'uccello Stia portando Un messaggio Ma Non è più qui Ah c'era un uccello Che portava Un Un messaggio Però tuttavia Se ne è subito Andato via Controlla la finestra Trovi 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 un pezzo di carta Con scritto un messaggio parziale Arm Braccio Però potrebbe anche essere Armi Che non è finito Generale Blomington Che elmo Questo messaggio Deve essere importante Lasciami inviare Qualche uomo Al confine Ehm Ci ripeto un attimo Insomma Sì Certo che sì Cioè Ademar Raccolto Questo qui è l'inverno Più freddo Degli ultimi 30 anni Dopo Il Penso che Il debole Raccolto Le tue persone Stanno morendo di fame Dobbiamo dargli Supporto No cavolo Avevamo tanto Eravamo messi bene Quei cittadini Dobbiamo Farci i cazzi nostri Vabbè I vichinghi ci stanno attaccando Noi dovremo difendere Il nostro regno Dal nord Attaccate Ehm Ehm Sì io dico Difendiamo ragazzi Che forse ci guadagniamo un po' No niente Ok quindi Se sposiamo la principessa Del nord Potremmo Fermare la guerra Noi abbiamo bisogno Di soldi però Siamo messi bene con tutti E dico no Che forse ci fece un soldi Vaffanculo Vabbè Siamo durati 14 anni Ragazzi È un record E sono conosciuto come William Lavaro Ok E siccome non avevamo più soldi L'origarchia Ha preso il potere Ragazzi Nuovo punteggio Più alto di tutti Siamo conosciuti Come il nome di William Lavaro E siamo il quarto Re Perché Addirittura Guardate qua Vince un duello Incontra il diavolo Incontra la strega Ok ragazzi Io Io abbiamo Qui ragazzi Quindi il primo È Guardate qua Ci va anche prima Qui noi ci abbiamo Boudin Il giovane Che eravamo noi Prima E poi noi adesso Abbiamo William Il lavaro Il lavaro Ok Potete vedere Tra le linee Dinastica Ragazzi Che figata Questo gioco Va bene Ragazzi Il gioco Finisce qua E Ci vediamo Al prossimo video Sperando che vi sia piaciuto Questa qui Ragazzi Se questa serie Qui piace Me la porto Solo con voi Bisogna